Penso che noi come squadra abbiamo dato tutto per vincere la partita, purtroppo negli ultimi 20 metri magari ci mancava qualcosa, ci mancava la brillantezza, un po' di qualità per sbloccare la partita, però ci portiamo a caso questo punto anche se volevamo vincere, già dalla ripresa settimana prossima vogliamo preparare la partita contro Venezia, sarà una partita fondamentale. Sì sì forse è venuto nel momento sbagliato perché ovviamente vuoi giocare, vuoi continuare a giocare, amo per la classifica però prenderemo questo riposo, vogliamo caricare le batterie e ripartire ancora più forte contro Venezia. No è vero, secondo me questa è una partita molto molto importante, ora abbiamo solo un punto, certo abbiamo avuto la palla ma non abbiamo creato tanto. Dobbiamo pensare così perché sì ora abbiamo due settimane per lavorare bene, per fare una grande partita contro Venezia for casa, è una partita molto difficile e molto molto importante. Sì è così è vero, abbiamo quattro partite difficili ma certo possiamo fare. No.